wow 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 cari amici appassionati di gaming benvenuti ben rientrati qui sul canale del duca c'è anche robert lì che guarda come si fanno i video su youtube ma se riguarda da me mi sa che non andiamo da nessuna parte un recap un fritto misto una situazione di quello che sta succedendo intorno a me dentro di me per prima cosa voglio parlarvi di lost ark questo clamoroso gioco uscito il diablo like mmorpg che sta spopolando su twitch raga ormai siamo al punto che tutti questi tipologie di giochi mmorpg comunque li condiscano comunque li facciano comunque li programmino non funzionano più questo gioco durerà le solite una barra due settimane poi ci sarà il flop vi dicono scaricatelo fatelo testatelo 1,2 milioni su twitch cazzo che apertura 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 tra un mese ci saranno mille persone che lo guardano mille perché questa tipologia di giochi ormai non funziona più siamo nel 2022 i gusti sono cambiati le abitudini sono cambiati la scelta è cambiata il numero di giochi che mensilmente ci invadono ci inondano sono cambiati non c'è quasi più la cultura di giocare quel gioco sempre quel gioco sempre quel gioco ci sono esempi ma sono tutti giochi che ti mettono subito al centro dell'azione sono giochi che finiscono lì dove finito la sessione pod finisce lì cioè entri giochi spari finisci non c'era questa una cosa sì ci sono ma non è così così centrale l'ex ping del personaggio delle armi ti fa la stessa cosa entri giochi finito esci arson entri giochi finito esci i giochi alla world of warcraft alla new world che ha fatto la stessa cosa che farà questo gioco qua ossia potto dalla madonna e poi rip non funzionano più siamo nel 2022 ci si può provare ci si può tentare fa il botto su twitch inizialmente gli streamer ti dicono che figata sto gioco figa che nuova sto gioco che roba sto gioco e poi dopo un mese gli stessi streamer e non critico perché è il loro lavoro giocheranno un altro gioco dicendovi la testa esattamente la stessa cosa per quanto riguarda lo stark ho parlato per quanto riguarda gli mmorpg ho parlato per quanto riguarda questa situazione ho parlato fatemi sapere cosa state qui sotto ma io volevo scaricarlo visto 72 giga non ho neanche provato volevo scaricarlo visto 72 giga detto mettiamo un attimo magari lo proverò però secondo me l'ho visto un po su twitch e posso dirvi che la mia impressione è questa è classico giochino che durerà un mesetto e poi siamo tutti mesetto mesetto a star larghi e poi siamo tutti a giocare ad altro continuano le mie peripezie su fifa oggi farò alle 14 andrò avanti con la vl li mi sto divertendo sblocato anche il mio idolo finale finalmente il mio giocatore preferito benvenuto a zizzi sblocato posato chiunque altro non avrei sblocato e oggi lo testerò per la prima volta l'ho sblocato tramite lsbc non l'ho trovata non l'ho comprato non ci so di per comprarlo comunque sono condito ad averlo inserito nel team mi sto divertendo andare avanti a giocarci a fifa devo dire anche se alterno molto con altri giochini quelli che stanno nel game pass e alcuni di quelli che stanno nel game pass meritano davvero di essere giocati come nobody saved the world veramente divertente un gioco indie particolare combattimento trasformazioni del personaggio insomma raga se avete il game pass provatelo ve lo consiglio resta arston aspettiamo la rivoluzione di aprile ma nel frattempo uscirà il mini set ho visto le carte alcune sembrano interessanti sembrano forti c'è la nuova leggendaria particolare però è che ti cambia il mazzo è un kazakus strano e raga onestamente aspetterei aprile per capire se c'è o ancora battaglia e soprattutto raga domenica sera ore 20 45 atalanta juventus qua qua sul canale twitch atalanta juventus cuore che batte atalanta juventus 20 45 siateci grande partita grandi emozioni grandi hype grande hype e per quanto riguarda questa partita la commenteremo insieme vedremo come va la juve quello che posso dire l'impressione che ho avuto io è che nel momento in cui morata è stato scaricato dalle responsabilità carattere del giocatore quello ha avuto il salto di qualità di bala ora a qualcuno a cui passare la palla davvero blauvi ci sta dimostrando un bel giocatore un giocatore ancora con grandi margini di miglioramento ma soprattutto sta dimostrando un giocatore che si impegna che è dentro la partita che darà il tutto per tutto per poter diventare un grandissimo è già uno che c'è la testa a 22 anni per voler e impegnarsi in quella cosa per diventare un grandissimo è tanta roba vedremo se riuscirà a diventarlo per tutto il resto raga qui sotto nei commenti ci vediamo oggi pomeriggio ore 14 live su fifa vedremo se alterneremo anche qualche altra cosa e domani ore 20 45 sicuramente atalanta juventus ringrazio per le commenti le visualizzazioni un saluto alla prossima ciao